Ciao a tutti, il mio nome è Deonantetre e con questo video ricapitolerò ciò che farò nei prossimi giorni da stasera probabilmente, come avete potuto forse inventare, appunto sono tornato a casa oggi pomeriggio e ho fatto subito questo video partiamo subito da cosa ho fatto in questi giorni dal momento che ero via a studiare, dopo un po' ho detto fanculo fisica, facciamo qualcos'altro per un po' non posso spararmi in fisica per un mese e mezzo e mi sono messo lì a seguire un po' il vero tecnologico italiano come tu vedrai mi sono messo a banca abbastanza di impegno, ho selezionato un po' gli errorplani adesso ho pensato qualcosina per le altre due classici, i caccia pesanti e i rettaccol suolo mi decido di metterli per bene perché quelle richiedono un po' più di attenzione rispetto ai caccia che come avete potuto vedere li ho fatti tranquillamente dal livello 1 al livello 7, no 8 i 9 e 10 devo ancora sistemarli perché gli harfer non li conosco bene cioè il sagittario 2 e la riete perché sono stati i prototipi che hanno poi fallito a causa dei fatti contingenti quali la presenza degli aerei americani ma vabbè, altro discorso sicuramente vi terrò aggiornato su questo poi un'altra cosa in cui vi terrò aggiornato che non c'entra c'entra col gioco ma più in là dei miei amici sono stati a Gamescom e hanno avuto modo di parlare con gli sviluppatori che gli hanno dato qualche informazione tra virgolette segreta e non appena mi informeranno su tutto ciò che ci sono detti farò un video a riguardo poi farò un video su questa patch che non ho avuto ancora modo di provare ho giusto fatto i tutorial tanto per vedere quando sono peggiorato e no, non sono ancora peggiorato non troppo ho avuto qualche problema con il controllo all'inizio perché adesso devo sistemarlo un pochettino però adesso sembra a posto poi sugli aeroplani come avevo già accennato non penso di continuare con gli aeroaeri resterò a livello 5 non so se riesco a raggiungere gli AC-1 e gli AC-7 in tempo probabilmente questi li lascerò per i tesseri sicuramente questi in fondo quindi non so ancora vedremo spero di farcelo però poi di video che sicuramente farò sono appunto quelli sull'aggiornamento del tecto italiano un po' per spiegare cosa ho fatto in questi giorni un po' per vedere per eventuali e future informazioni e poi per le varie battaglie che vi avevo già promesso poi altro video sarà appunto due tutorial nuovi uno su praticamente cominciare proprio inizio base base e poi un tutorial dedicato a sempre un gioco di parole ai tutorial che Wargaming ha messo nel gioco non erano quelli vecchi che a me piacevano tanto sono un pochino diversi addio sull'utilità è un po' dubbio però infatti ne parlerò nel video a loro dedicato poi altra cosa che farò che credo sia anche importante è come affrontare un aereo di livelli superiori al vostro questo potrà capitare da livello 2 contro livello 4 livello 4 contro livello 6 livello 6 contro livello 8 livello 8 contro livello 10 e più o meno le tecniche sono generalmente le stesse vi mostrò livello 2 contro livello 4 che apparentemente sembra più marcata la differenza perché di solito i livelli 2 sono briplani e i livelli 4 sono già monoplani abbastanza potenti io penso di fare tipo R68 contro 109b o qualcosa del genere tanto per mostrarvi come funziona poi altra cosa altra cosa penso che farò anche mostrarvi qualche battaglia e poi se si riuscirà a fare appunto l'evento che spero di fare metterò anche il video di quello che evento sarà non lo so da quanto avevo visto al momento sta vincendo la defraise nella votazione che ho messo io ho messo come termine ultimo il primo settembre che però può andare abbastanza a oltranza però il limite ultimo dell'evento tipo il 25 settembre perché il 26 appunto c'è io rilascio quindi c'è il set completo e da lì fare un evento con solo i livelli 1 è un po' un problema ok detto ciò per questo video dedicato a all'organizzazione credo di aver finito spero di di sentirvi poi tutti spero di anche che questo mio programma vi piaccia e ci sentiamo la prossima volta ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti